Ok, forse non sarà il più innocuo, ma è comunque il più carino. Frecciamento! Quel mecha non sarà facile da battere. Quante possibilità avrà Aaron di sconfiggerlo? Se segue il suo sciocco stile tempestoso, forse una su dieci. Beh, io ho piena fiducia in Aaron e nel suo stile tempestoso. Mi correggo, solo una su cento. Cosa farebbe un vero tempestoso? Lo so, sparare più in fretta. Come dici? Non essere scrupoloso, usa il tuo istinto. È lo stile tempestoso. Frecciamento! 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 Wow, quel mecha sa come muoversi! Beccati a festa! Si avvicinano! Scudo di luce! Beh, non ha funzionato per niente. Conosci quel vecchio detto, se qualcosa non ha funzionato fa di nuovo la stessa cosa, avrai più fortuna la seconda volta? Non siamo stati abbastanza tempestosi. Concentriamo tutta l'energia che ci resta in un attacco super lento, ok? Super lento? Ma è super folle! Super folle e... Super tempestoso! Cosa? Allora, tiffi ancora per lo stile tempestoso? Pronti all'impasto! Pronto? Ora! Yeah! Frecciamento! Wow! Mondialo qui c'è доступa la porte! Seguirei! Sì, stiamo vincendo Non riuscirò a sostenere lo scudo ancora per molto Al momento abbiamo zero possibilità di sopravvivere Ikor, fidati del super stile tempestoso È una follia Verremo schiacciati per colpa del vostro super stile tempestoso Sì! Giusto in tempo È stata una super fortuna Come ti pare È stato un onore, guerriero Mecha Cosmir Troppo carino, cosa ha detto? Ha detto, la prossima volta di sicuro vi super schiaccerò Oh, non è adorabile? Ciao! Gormiti, gormiti, raggiungibili Chi mi fermerà? The legend is back Legend is back Gormiti 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 Gormiti